I carabinieri di Acireale hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Rosario Palermo, 60 anni di Acireale, ritenuto responsabile di omicidi aggravati e occultamento di cadavere della 22enne Agata Scuto, la cui scomparsa venne denunciata dai familiari nel giugno 2012. Le indagini erano state avviate dai carabinieri nel 2020 dopo una segnalazione alla trasmissione Chi l'ha visto di Rai 3 sulla presenza del corpo della 22enne affetta da epilessia e da una menomazione al braccio e alla gamba nascosto nella cantina della casa della madre, ma le ricerche hanno avuto esito negativo. Il corpo della ragazza non è stato ritrovato. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della procura distrettuale. L'indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato in ragione sia del rapporto particolare che aveva instaurato nell'ultimo periodo con la ragazza, la quale non usciva mai da casa da sola, ne intratteneva rapporti con altre persone, sia della falsità delle notizie fornite agli incoerenti circa i suoi spostamenti il giorno della scomparsa di Agata. In particolare l'uomo avrebbe cercato di inquinare le prove anche ottenendo da conoscenti la conferma del suo falso alibi.